Ha accusato un malore, si è accasciato ed è morto. L'episodio si è verificato sabato scorso poco prima delle 15.30 a Caltanissetta. Aldo Michele Mancuso, 74 anni, ha perso la vita mentre si recava per l'ultimo saluto al funerale dell'amico Pippo Grosso. L'ambulanza del 118, avvisata subito dai presenti, è arrivata tempestivamente sul luogo, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Tra i primi a intervenire ci sarebbe stato proprio il figlio dell'amico deceduto. I sanitari hanno tentato di tutto per rianimare l'uomo, ma è stato tutto vano. L'uomo, pensionato di 74 anni, noto nel capoluogo Nisseno, lascia la compagna e due figli. Il funerale, lunedì alle 15.30 alla chiesa di San Paolo a Caltanissetta.